Il primo comune del Magentino a prendere posizione sulla vicenda dei finti fertilizzanti dell'azienda VTE finiti a inquinare anche i campi di 10 comuni della provincia di Milano e Bareggio, che come Abbiategrasso, Magenta, Legnano, Basilio, Buffalora, Sopraticino, Mesero, Robecco, Sul Naviglio, Canegrate e Parabiago, è stato coinvolto come vittima nell'inchiesta sui rifiuti tossici partita a Brescia. Il sindaco di Bareggio Linda Colombo si è così espressa in una nota nella mattinata di martedì. Nei giorni scorsi mi è stata notificata la comunicazione dei carabinieri di Brescia con l'elenco dei campi inquinati, con i fanghi tossici e purtroppo anche un'azienda agricola di Bareggio è stata truffata. Mi sono messa subito in contatto con gli enti competenti e con le associazioni di categoria al fine di mettere in campo tutte le azioni possibili anche dal punto di vista legale per salvaguardare il nostro territorio e l'azienda di Bareggio che è parte lesa in questa vicenda e che comunque in via preventiva e cautelativa ha già provveduto a bloccare tutte le coltivazioni sul terreno interessato. Bareggio è un paese a forte vocazione agricola e la nostra amministrazione farà tutto quanto e nelle sue possibilità per difenderla. La faccenda si basa infatti per intero sui tempi e i costi delle bonifiche, ma se sui tempi è chiaro a tutti che gli interventi di riparazione dei danni ambientali debbano farsi il più in fretta possibile, sui costi la faccenda è più complessa perché i primi a dover intervenire dopo i responsabili dovranno essere i comuni e solo in seconda battuta Regione Lombardia e se il Pirellone deciderà di non far pagare potenzialmente agli enti locali le spese di bonifica, questo significherebbe un impegno su oltre 70 comuni visto che dei 78 coinvolti quasi tutti sono lombardi. Intanto dopo Bareggio sono attese le prese di posizione degli altri comuni della Biatense e del Magentino.